ciao a tutti ragazzi bentornati su star ed books il libro di cui c'ho la bocca impastata stasera il libro di cui mi accingo a parlarvi stasera è fresco fresco di uscita e anche fresco fresco di lettura perché ho finito di leggerlo proprio oggi che è domenica 22 settembre magari fosse novembre così mancherebbe un mese a natale ed è una romance di un'autrice che come sapete io adoro tantissimo e che non vedo l'ora di conoscere a roma e soprattutto sapevo che non avrebbe deluso assolutamente le mie aspettative il libro in questione è appunto egomaniac di vicky land uscito proprio da pochissimi giorni per la sperlingham kaffer che ringrazio per la coppia cartacea del romanzo che mi porterò appunto a roma per farmi firmare sarà l'unico appunto che porterò su degli altri farò le etichette perché mi sono resa conto facendo la prova trolley anche se è quello grande che non ho voglia di portarmi troppo peso ci sono le etichette trasparenti che sono bellissime comodissime vanno benissimo e quindi mi porterò appunto questo visto che è l'ultimo fresco fresco di uscita e non vedo veramente l'ora di incontrarla mi accingo intanto a leggervi la trama drew yeger è un bravissimo avvocato divorzista di successo con uno studio da sogno affacciato su park avenue di ritorno da una vacanza alla ua e la sera di capodanno trova però il suo ufficio occupato da emery una terapista di coppia che si è fatta truffare da un finto agente immobiliare dopo lo sconcerto iniziale per la prima volta in vita sua drew egocentrico e arrogante sciupa femmine tipico della kilan rimane intrigata da una donna che non ha nulla a che vedere con quelle che ha sempre frequentato emery lo disarma con la sua ingenua schiettezza la sua gentilezza la sua vulnerabilità e un lato b da capogiro i due non hanno nulla in comune se non l'ufficio ma col passare del tempo la convivenza forzata sfocia in una proficua collaborazione professionale e in una trazione inesistibile mentre cercano di controllare i loro impulsi e potete capire quanto ci riusciranno drew dovrà affrontare il suo passato e imparerà ad accettare una dura verità che riguarda suo figlio e capirà che la dolcezza di emery è ciò di cui ha sempre avuto bisogno e che il vero amore arriva quando meno te lo aspetti la trama è una tipica trama alla kilan perché riesce a unire commedia romance con quel lato hot che sempre ci piace con quel filo di drama e angst che sempre ci sta perfettamente nelle sue nelle sue storie ho il naso veramente ragazzi le temperature di questi giorni questo sali e scendi continuo stavato faceva caldo oggi un freddo della madonna mi stanno uccidendo io spero di non stare male per roma comunque sia abbiamo appunto il classico personaggio alla kilan che è drew jagger o jagger che dir si voglia ed è appunto un avvocato divorzista che perché sa di essere affascinante le donne le può avere schioccando le dita ma che dentro di sé ha una ferita che ancora sanguina per via di un matrimonio finito male a causa di una donna che francamente citando le comiche due come faccio sempre avrei appeso per gli alluci e le avrei lasciata lì a morire perché le donne della risma dell'ex moglie di drew alexa ve la cito anche così potrete odiarla con tutte voi stesse no veramente è qualcosa le donne così le donne come questa alexa veramente infangano il nome di noi donne perché questa c'è la parola troia stampata sulla fronte perché ha mentito a drew su una cosa importantissima lo ha cornificato da tutto il tempo si è fatta sposare soltanto perché lui appunto viene da una famiglia comunque facoltosa una famiglia di avvocati infatti poi lui stesso è diventato avvocato e ci credo che con questo drew ha perso fiducia non soltanto proprio nel matrimonio in sé infatti difende soltanto gli uomini anche perché poi con le donne è finito per fare zigzaghi appunto per ripica perché poi le donne appunto anche le clienti mi chiamano che i clienti trovavano tutte arrapate santi dio comunque va bene ci sta ma ha perso proprio fiducia nelle relazioni e quando si trova appunto in ufficio emery questa ragazza dell'oklaoma fiduciosa romantica soprattutto e che fa la consulente matrimoniale che cerca di salvarli i matrimoni potete ben capire come le loro divergenze di opinioni sfoceranno in punzecchiature che saranno irresistibili emery è un personaggio che mi è piaciuto perché ci possiamo tutti medesimare il lei dall'oklaoma si è trasferita a new york per la tale boldwin un altro caso umano un altro che ci ha scritto stronzo perdonatemi stampato sulla fronte perché per quanto sembra tenere a emery a emery francamente a me non mi è piaciuto è un personaggio che veramente non mi è piaciuto perché appena c'è ha tenuto sulla corda questa donna per anni perché questa è la fine che ha fatto diciamo facendo simulando il tutto con un'amicizia e appena lei vede che c'è un altro interessato a lei comincia stranamente interessarsi anche lui questo è la prova che sei uno stronzo e che devi essere appeso per i flap perché questo non è interessamento non è amore è soltanto possesso è soltanto volerti tenere la tua rete di sicurezza quando le altre non te la danno e quindi fai schifo e devi essere appeso per i flap come fantozio e pozzetto nelle comiche due ma devi soffrire di più perché a un certo punto a villaggio è cominciato anche a piacere infatti faccia scena epica io la cito sempre con questo tipo di personaggi perché ci sta ci sta perfettamente il rapporto tra i due si sviluppa abbastanza velocemente anche diciamo tra un casino e l'altro perché appunto lei è stata truffata lui se la ritrova in ufficio lei lo minaccia di chiamare la polizia chiamo la polizia tu chi sei il maniaco devi andartene insomma poi la cosa è quell'altra c'è anche una cosa in tribunale che lui cerca di tirarla fuori da un pasticce insomma un classico appunto un classico romanzo alla vichila anche veramente comunque nonostante mantenga sempre lo stesso figlio di genere ha sempre poi quel tocco di originalità in ogni storia che davvero ti conquistano sempre appunto poi i due cominceranno a punzecchiarsi sempre di più a queste litigate diciamo che sono poi dei preliminari a quello che poi alla fine sfocerà in una passione travolgente per poi appunto passare verso l'innamoramento io adoro questa cosa nonostante comunque la snaccherata non è che poi ci sia subito subito passa comunque passano comunque un po' di capitoli e comunque la chilan sa renderlo bene anche le snaccherate immediate perché comunque poi dopo ci mette il processo di conoscimento di avvicinamento il sentimento comincia a nascere piano piano nonostante comunque ci sia l'atto fisico quello ci sta è che a me dà fastidio io magari ogni tanto vengo fraintesa a me non dà fastidio quando snaccherano subito non è quello darmi fastidio e quando snaccherano subito dopo due capitoli sono già innamorata lei perlomeno perché sempre lei è innamorata persa no non puoi dire di essere innamorata soltanto perché questo ti ha ribaltata come un calzino per due capitoli non puoi assolutamente la chilan sebbene ogni tanto faccia succedere le cose subito poi però ci mette dentro un processo di innamoramento di avvicinamento comincia a nascere comunque il sentimento piano piano a me è quello che piace se poi nel mezzo ci stanno le snaccherate va bene ok quello serve anche per intrattenere il lettore e la chilan lo fa bene invece quando c'è la snaccherate dopo due capitoli lei è subito innamorata cotta senza neanche conoscerlo e allora no e allora quello lì mi girano parecchio parecchio i gabbasisi grazie a due la chilan non fa così perché poi dopo comunque emery e drew dovranno affrontare anche la loro bella dose di problemi a causa appunto della troia chiamata alexa e poi conosceremo anche il personaggio di becca che è il figlio appunto di drew che sarà appunto diciamo il fulcro della parte angst diciamo drama incasinata del romanzo che è un mammino adorabile che io ho adorato sebbene non appaglia tantissimo ma l'ho adorato dall'inizio alla fine drew emery appunto inserano questo legame bellissimo in quanto mi riguarda drew riuscirà a far capire a emery che sta perdendo tempo con uno stronzo mentre emery riuscirà a far capire a drew che non tutte le donne sono delle vacche e quindi questa è una cosa bellissima quando c'è poi la diciamo il bilanciamento delle cose della delle emozioni della bilancia ecco l'equilibrazione della bilancia tra i vari tra i vari personaggi tra i vari loro punti di vista è una cosa che mi piace tantissimo quattro stelle pieno per questo romanzo che davvero l'ho divorato ragazzi l'ho divorato in due giorni ho messo appunto la foto stasera su isan anzi domenica sera perché questa recensione penso che sarà online mercoledì oggi penso che oggi sarà mercoledì giovedì ancora devo decidere perché non ho fatto veramente in tempo perché l'ho iniziato il venerdì e l'ho finito domenica e tanto per dirvi quanto mi è piaciuto mi è piaciuto tantissimo poi vabbè i romanzi della keyland che ha sempre questo questo stile molto scorrevole molto fluido che però ti tiene coinvolta ti emoziona ti fa incazzare quando devi incazzarti emozionarti quando devi emozionarti ridere quando devi ridere veramente io non vedrò la di conoscere questa splendida donna a roma e non vedrò la di leggere il suo prossimo romanzo perché il prossimo romanzo uscirà appunto da sempre a quattro mani con nove world e sono curiosa perché quelle due donne a quattro mani sono fenomenali però anche di leggere il suo nuovo romanzo in solitaria perché veramente Drew e Emery mi sono entrati nel cuore mi hanno coinvolto emozionato divertito accaldato mi hanno fatto incazzare tutto il repertorio quindi ragazzi se siete amanti del genere se amate il romance se amate il pizzico di drama se amate le scene hot ma non volgari se amate due personaggi che all'inizio si impunsecchiano e poi piano piano imparano a conoscersi e innamorarsi ogni mezzo c'è anche la snaccherata e tutto il comprensor di drama angst divertimento e tutto il resto egomaniac di vikiland fa assolutamente per voi bene questa recessione si conclude qui io spero che vi sia piaciuta come sempre vi ricordo che nella informazione nell'info box trovate tutte le info riguardanti questo libro prezzo trama numero di pagine case editrice tutto quello che può servirvi per farvi un'idea troverete anche tutti i miei social facebook twitter instagram vedete trovarmi seguitemi mettetemi la che mi fate tanto tanto contenta iscrivetevi al canale blog se non l'avete ancora fatto cliccate sulla campanella per attivare le notifiche e se questo video vi è piaciuto mettete un bel like e condividetelo vi mando un bacione enorme e ci vediamo al prossimo video la prossima recensione ciao a tutti